Io vorrei ricordare, riprendo un attimino il discorso fatto nella prima trasmissione, quando qualcuno ha detto io vengo a farti da contraddittorio, il problema per fare del contraddittorio al sottoscritto è quello che bisogna portare argomenti, bisogna portare cose, bisogna provare quello che si dice, non si può fare delle affermazioni e il sottoscritto non è sottomesso a nessuna struttura divina, a nessun dio, non è sottomesso a nessuna regola, non è sottomesso a nessuna verità, il sottoscritto pospone i dogmi di verità con i dogmi di libertà, per cui quello che noi facciamo, il nostro sentire religioso, e uso il termine, Ciao ragazzi, ciao Mario, ciao ciao E uso il termine religioso, ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito di leggere, uso il termine religioso a modo mio, cioè nel senso lo uso all'antica romana, cioè come significato originale, cioè l'essere umano che si lega al mondo che lo circonda, e l'essere umano che chiama il mondo che lo circonda a legarsi a sé. Non me ne frega niente del significato che al termine religioso ha dato per esempio il cristianesimo, hanno dato i musulmani, hanno dato tutte le religioni rivelate, cioè non me ne frega niente, cioè è una cosa talmente abnorme, talmente fuori dal sentire umano che non mi interessa assolutamente, per cui se qualcuno viene deve confrontarsi coi miei termini, col mio sentire, esattamente come io non posso andare da Voitila o in Vaticano e pretendere che loro si confrontano coi miei termini, col mio sentire. Se io vado ad affrontare Voitila, vado ad affrontare un vescovo, non so, in una conferenza dove lui deve esporre le sue idee, non posso pensare che lui si adegui a me, però se uno vuole affrontare me in questo momento deve adeguarsi a me. E si è chiaro questo perché io non riconosco ai religiosi, come religiosi in questo caso intendo i cristiani, qualunque sia loro struttura, vescovi, preti, fratti, monache, papa, un minimo di autorità civile. Per me loro sono solo i costruttori dei campi di sterminio. Se poi qualcuno vuole confrontarsi con me per dire che questo non è vero, porto degli argomenti per dire che questo non è vero. Io posso portare degli argomenti per dire che questo è vero, per dire che il superuomo con cui Hitler ha ammazzato la gente è il Gesù di Nazareth, non è il superuomo niciano. Per cui io posso portare tutti gli argomenti possibili. Se qualcuno vuole confrontarsi con me lo fa a questi livelli. E si è chiaro una cosa, io appartengo al divenire, cioè appartengo alle trasformazioni delle cose, per cui è inutile che uno mi dica beh, allora abbiamo fatto la miseria, ma adesso li vogliamo bene, adesso li aiutiamo questi poveri negretti. Beh, io a quello gli sputo in muso, cioè nel senso che per me quello deve vergognarsi, perché il suo ruolo è quello di mantenere la miseria come costante della vita, non è quello di ricostruire i legami, è quello di mantenere quello che è la non conoscenza. Dopodiché mi scuso sempre con l'amica che mi ha telefonato dicendomi che io parlo troppo veloce, esprimo concetti anche abbastanza complessi, in modo troppo veloce, per cui non è possibile seguirli in maniera lineare. Questo purtroppo è il mio grande, grandissimo difetto, perché? Perché io penso, come ogni apprendista stregone pensa, che da un momento all'altro noi si possa morire, per cui i compiti che ci siamo assunti, i compiti che dobbiamo portare a termine, prima di morire possono non essere portati a termine, questo ci dispiacerebbe moltissimo. Per cui noi siamo sempre troppo veloci, abbiamo sempre l'azione che precede il pensiero, proprio come anche a livello di comportamento, come modo di essere, per cui purtroppo da questo punto di vista rompiamo parecchio le scatole delle persone, abbiamo delle pretese a volte un po' eccessive, e questo riconosco che è un grosso errore, è un grosso limite che abbiamo, o che ho essenzialmente, visto che sono io. Allora, oggi continueremo il Gesù di Nazareth tra l'infamia umana, e parleremo sempre da Marco, da Marco parleremo del lievito dei farisei. Quello che leggo dei Vangeli in questo libro è letterale, può darsi che la traduzione non sia cei, sia quella delle paoline, non ha importanza, è quello che leggo è letterale. I discepoli si erano dimenticati di prendere dei pani, e non avevano che un solo pane con sé nella barca. Intanto Gesù faceva loro delle raccomandazioni dicendo, state attenti e guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi si dicevano fra loro, non abbiamo pane. Essendosene accorto, Gesù disse loro, perché vi preoccupate per non aver pane? Non avete ancora riflettuto, ne hai capito? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? Non vi ricordate? Quando io, io ho spezzato cinque pani per cinquemila uomini. Quante ceste avete raccolto? Vi ricordate? Piene di avanzi. Risposero, dodici. E quando ho spezzato sette pani per quattromila? Quante ceste avete raccolto piene di avanzi? Gli risposero, sette. E disse loro, non capite ancora? Questo passo, commento il lievito dei farisei, questo passo del Vangelo di Marco ha rappresentato la giustificazione attraverso la quale la Chiesa Cristiana in generale, quella cattolica in particolare, hanno diffuso la miseria. Tanto c'è la provvidenza divina. A cosa serve avere il pane quando si crede acriticamente nella parola del figlio del macellario di Sodoma e Gomorra? Cosa serve accumulare cibo? Lui spezza il pane per cinquemila persone, dunque spezzerà il pane anche quando ne hai bisogno. L'episodio sembra scoppiazzare il racconto ebraico della manna. Quanto arriva senza dover sudarselo e doverlo rubare, a quanti se lo sono sudato. Attraverso questa aberrazione, la Chiesa Cristiana impone alle coppie di procreare figli, seminando miseria e confidando nella provvidenza divina. Gesù e le Chiese Cristiane hanno un assoluto disprezzo. Nei confronti di chi usa le proprie determinazioni per fondare il proprio futuro. Le Chiese Cristiane hanno un grande disprezzo per gli esseri umani che vogliono che diventino pecore del greggio, pronte a seguire il buon pastore lungo la strada che porta al macello. Le Chiese Cristiane si sono prese la parte migliore, quella dei macellai. E a questo episodio lo leghiamo a Carlo Magno e la conversione dei sassoni pagani. Dall'operazione storica di Bernardi e Guarracino, edizioni scolastiche, tanto perché ognuno possa andarsi a trovarseli. A partire dal 780, le campagne militari si svolgono sempre più all'interno della Sassonia, e cominciò ad affacciarsi l'idea di procedere a una totale sottomissione di quelle tribù pagane. Nel 782 Carlo Magno fece uccidere 4.500 prigionieri sassoni e negli anni successivi procedete a una massiccia operazione di battesimi forzati, imposti con la violenza e il terrore. Alla fine di questo periodo di guerra, ma la resistenza dei sassoni durò ancora fino al 798, in una data incerta collocabile fra il 785 e il 790, Carlo Magno emanò il primo capitolare sassone, che ci fa capire bene con quali mezzi il dominio franco e la religione cristiana furono imposti al popolo sassone. Allora, da questo capitolato estraiamo alcuni principi. Il principio numero 3. Se qualcuno sarà entrato in chiesa con la violenza e ne avrà rapito qualcosa con la forza e col furto o avrà dato fuoco alla chiesa stessa, costui si è condannato a morte. Capitolo 4. Se qualcuno avrà trascurato il santo digiuno quaresimale per disprezzo della religione cristiana e avrà mangiato carne, costui si è condannato a morte. E tuttavia il sacerdote consideri se per caso non gli sia avvenuto di mangiare carne per cause di forza maggiore. Capitolo 6. Se qualcuno, ingannato dal diavolo, avrà creduto, secondo l'uso pagano, che un uomo o una donna sia una strega e mangi gli uomini e, a causa di questo, l'abbia bruciata o abbia dato ad altri da mangiare le sue carni o egli stesso ne abbia mangiato, sia condannato alla pena capitale. Settimo. Se qualcuno avrà consumato nelle fiamme il corpo di un defunto, secondo il rito pagano, e avrà ridotto in cena le sue ossa, sia condannato a morte. Se qualcuno distirpe sassone e non battezzato, avrà voluto nascondersi fra i suoi simili e avrà rifiutato di venire a ricevere il battesimo, preferendo rimanere pagano, sia condannato a morte. Se qualcuno avrà fatto sacrifici umani al diavolo e ai demoni, secondo il costume dei pagani, sia condannato a morte. Se qualcuno cospirerà con i pagani contro i cristiani e con costoro vorrà continuare a mantenersi ostile ai cristiani, sia condannato a morte. Allo stesso modo, chiunque si sarà reso complice di macchinazioni contro il re o il popolo cristiano, sia condannato a morte. Se qualcuno, dopo aver commesso nascostamente queste colpe mortali, avrà cercato spontaneamente rifugio presso un sacerdote e dopo essersi confessato avrà voluto fare penitenza su testimonianza del sacerdote e costui avrà salva la vita. Similmente, secondo i precetti divini, abbiamo stabilito che tutti facciano dono della decima parte delle loro sostanze, del frutto del loro lavoro alle chiese e ai sacerdoti, sia i nobili che i liberi, e i liti, cioè i semi liberi. Rendano a Dio una parte di ciò che Egli ha dato a ciascun cristiano. Capitolato 18 Capitolato 19 Similmente ci è piaciuto aggiungere a questi decreti che tutti i bambini siano battezzati entro l'anno e abbiamo deciso che se qualcuno trascurerà di presentare al battesimo il bambino entro il giro dell'anno, senza il consiglio e il permesso del sacerdote, se sarà di nobile famiglia, paghi al fisco un'ammenda di 120 scudi, se è libero 60, se è lito 30. Capitolato 20 Capitolato 21 Se qualcuno avrà fatto voto alle fontane, alberi o boschi, o vi avrà recato offerte secondo l'uso pagano, e avrà mangiato in onore dei demoni, se è nobile pagherà 60 soldi, se è libero 30, se è lito 15. Se poi non avranno di che pagare immediatamente, siano assegnati al servizio della Chiesa fino a che i soldi non saranno consegnati. Capitolato 22 Ordiniamo che i corpi dei sassoni cristiani siano portati nei cimiteri delle Chiese e non ai tumuli dei pagani. Capitolato 23 Gli indovini e dicitori di sorte, abbiamo deciso, siano consegnati alle Chiese e ai sacerdoti. Capitolato 34 Proibiamo a tutti i sassoni di indire pubbliche assemblee, a meno che un nostro inviato non li abbia chiamati a raccolta il nostro nome. Ogni conte nel suo territorio riunisca i placiti e amministri della giustizia e i sacerdoti controllino che non faccia altrimenti. Capitolato Departibus Saxonis, primo capitolare sassone Ingi Tessis, opera citata, pagina 263 Commento del lievito dei farisei e l'attività di conversione al cristianesimo di Carlo Magno L'attività di conversione al cristianesimo dei pagani fu un'operazione militare. Anche se i cristiani hanno inventato tutta una serie di leggende attraverso le quali ottengono la conversione, queste in realtà sono avvenute attraverso il terrore, i massacri, le stragi. In particolare la conversione dei sassoni al cristianesimo è avvenuta attraverso il terrore seminato da Carlo Magno e dalle sue tremende stragi. In altra parte analizzeremo episodi di Bonifacio, cui le leggende cristiane attribuiscono la conversione dei sassoni. In realtà si tratta delle solite menzogne. La conversione è avvenuta ad opera di Carlo Magno col suo esercito, perché nessun popolo avrebbe mai accettato una fede basata sulla pulsione di morte e sulla miseria ottenuta attraverso la distruzione delle tradizioni attraverso le quali quel popolo è divenuto all'interno dell'oggettività nella quale sta vivendo. Il problema vero per Carlo Magno era quello di trovare un sistema attraverso il quale fissare la sottomissione delle tribù pagane sassoni ai propri dettami, disarmandole della forza morale e della determinazione nella ricerca della propria libertà. Carlo Magno comprese che la forza di resistenza ai suoi assalti non proveniva soltanto dalle armi, ma dalla relazione che i sassoni avevano col circostante. La loro resistenza era dovuta al proprio principio speranza, e al proprio divenuto nell'oggettività in cui vivevano. Per ottenere questo Carlo Magno procedete alla distruzione sistematica, come il cristianesimo insegnava. Egli doveva guardarsi dal lievito dei farisei. Il lievito dei farisei si chiamava principio speranza, come relazione fra le tribù sassoni e le loro foreste, fra le tribù sassone e il loro silvano. La prima operazione che fece Carlo Magno fu quella di uccidere i prigionieri. 4.500 prigionieri sassoni furono massacrati, tipico dei cristiani. Proseguiranno per tutta la storia in questo genere di massacri. Massacrare esseri umani liberi per costringere i sopravvissuti in ginocchio. Queste operazioni ebbero l'avallo dei vari pontefici cattolici romani, i quali si congratularono con Carlo Magno per essersi guardato dal lievito dei farisei. Carlo Magno sarà incoronato quale paladino della fede cattolica. Dopo il macello procedete ad una massiccia opera di battesimi forzati, imposti con la violenza e col terrore. E alla fine della guerra emanò un sistema di leggi cui scopo era quello di assicurarsi la sottomissione dei sassoni al nuovo battesimo e a nuova fede che egli aveva imposta. Non era sufficiente battezzare chi si costringeva con spade e massacri a mettersi in ginocchio. Era necessario perpetuare questa fede costringendoli a sottomettere i loro figli e i figli dei figli affinché il terrore e l'imposizione non era tale da costringere generazione dopo generazione e di interiorizzare il nuovo credo perdendo il principio speranza e diventando sordi al richiamo di libertà. Era necessario un ferreo corpo legislativo e una ferocia inaudita nella sua applicazione, ferocia che soltanto i Vescovi di Roma, Vescovo dopo Vescovo da Pietro a Voitila, sono stati in grado di esprimere. Il circostante è immanente all'essere umano, è sempre là ad esprimere il proprio richiamo. I cristiani sono costretti a sviluppare gradi sempre maggiori di ferocia per costringere gli esseri umani alla sottomissione, per costringerli a diventare sordi e ciechi davanti a quel circostante. Guardatevi dal lievito dei farisei, dice Gesù, e dice bene. Guardatevi dal richiamo di libertà, perché il richiamo di libertà non permetterà mai al macellaio di Sodoma e Gomorra e ai suoi sgherri di distruggere il divenire degli esseri umani. Commentiamo il capitolato sassone A perenne vergogna di ogni cristiano, che di quel capitolato ne è responsabile, sia nel passato che nel presente, per non aver espresso vergogna davanti a tanta violenza, violenza gratuita, fatta essere inermi ed indifesi, persone che, anche se continuano a resistere militarmente, Carlo Magno ammazza prigionieri, non combattenti, e impone una religione di morte a donne e bambini uccidendo, torturando e ricattando. In quale altro modo il cristianesimo poteva imporsi? Commento al capitolo 3 La Chiesa diventa il centro della sottomissione, non solo il simbolo della strage, ma il momento di distruzione del divenire dei sassoni. La Chiesa, in quanto luogo fisico, deve essere protetta a garanzia della continuità dell'assoggettamento. La Chiesa diventa il centro attraverso il quale Carlo Magno perpetuerà le sue stragi, giustificandole col pericolo corso dalla Chiesa. Esattamente come alcune centinaia di anni dopo i cristiani inglesi, con la scusa di proteggere i trafficanti della fede del macellare Sodoma e Gomorra in Cina, scateneranno ben tre guerre per poter spacciare oppio ai cinesi. La Chiesa, in quanto edificio, deve suscitare assoggettamento ed umiltà, deve disarmare emotivamente e psicologicamente i sassoni, impedendo loro di riformulare la relazione col circostante. La violazione del progetto di assoggettamento attraverso l'imposizione della Chiesa viene punito con la condanna a morte. Gesù fa bene a guardarsi dal lievito dei farisei. La sua parola significa morte, massacri e distruzione. Capitolato 4 Praticamente la risposta all'articolo 4 Se qualcuno si sarà sottratto al processo di condizionamento e di assoggettamento ai voleri e alle leggi imposte della Chiesa cristiana, dovrà essere condannato a morte. La fede di Gesù si impone attraverso la strage, non disponendo di nessun altro mezzo attraverso il quale imporsi. La fede dei cristiani, soltanto ferocia e come tale, non può essere accolta da nessun popolo, essa deve essere imposta, e così anche le sue nuove tradizioni. Strappate le tradizioni esistenti attraverso le quali i sassoni diventano uno con la propria terra, si impongono con le nuove tradizioni attraverso le quali i sassoni diventano schiavi di un padrone, perdendo il controllo, perdendo il contatto con la propria terra e l'intero circostante. Pertanto si impone loro di seguire i nuovi costumi, pena la morte. L'unica eccezione alla morte è consentita. Se un sassone è stato costretto a violare i nuovi costumi per causa di forza maggiore, allora può essere perdonato. E la ferocia, anziché essere rivolta al sassone, viene rivolta alla causa che ha prodotto la violazione, magari uccidendo anche il sassone che l'ha commessa, in quanto probabilmente non ha resistito sufficientemente. Logica di chi predica di guardarsi dal lievito dei farisei. Articolo 6 Chi è il dio dei pagani? Il diavolo, dice Carlo Magno, nella sua miseria morale. La distruzione della tradizione deve essere sistematica. Chi ha il diritto di liberarsi di un nemico? Solo l'autorità della Chiesa Cattolica. Il problema non è l'imposizione di un diritto morale, il problema è quello di riuscire ad imporre come sia soltanto l'autorità della Chiesa Cattolica che può agire contro i suoi schiavi. Togliere ogni diritto di giudizio e ogni diritto all'azione. È interessante notare come Carlo Magno decreti una feroce pena contro chi accusa qualcuno di essere una strega. Sembra certo appartenga Carlo Magno o ai suoi immediati successori il canon episcopi, la pietra miliare, nella caccia alle streghe per 500 anni in Europa. Il senso del decreto non è quello di arginare un costume per rivendicare il diritto di qualcuno, ma quello di togliere il diritto dei pagani sassoni conferendolo alla Chiesa. Come è possibile, afferma Carlo Magno, dare della strega adoratrice del diavolo a qualcuno da parte di chi è pagano e pertanto adoratore del diavolo stesso? Appare logico che questa funzione ai pagani sassoni l'attribuissero piuttosto ai preti cristiani e ai loro seguaci e a questo punto appare logico che Carlo Magno proibisse una pratica che avrebbe potuto essere rivolta contro i maghi neri cristiani. La sottomissione dunque implica la perdita del diritto di giudizio e di critica. Chi critica non è sottomesso. Chi giudica si arroga un'autorità che Carlo Magno si era prefisso di distruggere per sottomettere i pagani. Si stia molto attenti a considerare l'atto di Carlo Magno come un atto umanitario. Egli deve togliere ai pagani quello che viene considerato un diritto per arrogarselo e consegnarlo alla Chiesa Cattolica affinché lo usi per ampliare il suo potere e la sua capacità coercitiva nei confronti dei nuovi schiavi. Articolo 7 Sia condannato a morte chiunque consegna le fiamme il corpo di un defunto. Strappare le tradizioni è il compito che si sono prefissi i cristiani. Strappare per sottomettere. Se il popolo ha un adattamento attraverso il quale costruisce dei percorsi e delle relazioni col circostante, agire nei confronti della morte e della rigenerazione della vita dopo la morte del corpo fisico significa distruggere l'ultima speranza rimasta. Nemmeno la morte è più speranza di liberazione. I cristiani vogliono appropriarsi dell'intera esistenza dell'essere umano distruggendo ogni relazione che gli consente di fondare il proprio futuro. I cristiani vogliono seppellire i morti perché predicano l'assurdo concetto di risurrezione. I pagani hanno la nascita del corpo luminoso... Scusate un attimo... Scusate un attimo... Tiro su... Sì... E lo so ma noi altri non avemmo soldi e se potremmo risparmiare un pochetto... Scusate un attimo... Scusate un attimo... Una donna miseria... No vabbè... Andiamo avanti con queste cose... I cristiani vogliono seppellire i morti perché predicano l'assurdo concetto di risurrezione. I pagani hanno la nascita del corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. I pagani distruggono il corpo fisico come abbandono della vecchia esistenza. I cristiani conservano il corpo, il corpo sottoterra per diffondere attraverso i loro cimiteri. Il terrore della morte abbinandolo al terrore delle fiamme dell'inferno. In aggiunta hanno imposto un sistema infame attraverso il quale condannare a morte chi non partecipa a seminare terrore nei suoi figli attraverso la diffusione dei cimiteri. Capitolo 8 Non deve esistere nessun luogo dove si possa nascondere chi non si sottomette alla chiesa cristiana. Non esiste nessun luogo dove si può nascondere chi non si sottomette. Non ci deve essere nessun luogo dove si possa nascondere chi preferisce restare pagano. Deve essere comunque condannato a morte. Non deve esserci nessuna struttura di pensiero alternativa al cristianesimo seguita da qualche essere umano, almeno da vivo. Chi preferisce rimanere pagano deve essere ucciso, dice Carlo Magno, dice la chiesa cattolica e tutti i papi da Pietro a Voitila e con essi i loro successori. Non abbiamo pane, dicono gli apostoli. Mettetevi in ginocchio e pregate. Chissà che non faccia qualche miracolo, risponde loro Gesù. Mettetevi in ginocchio e pregate. Forse Dio vi sfamerà, dicono i preti, a chi costringono la sottomissione. Se non pregate ci pensiamo noi ad uccidervi. Distruggere la tradizione per sottomettere. Il nemico deve morire lentamente, sotto tortura, come usano a fare i cristiani e come faranno a maggior gloria del loro Dio. 4.500 prigionieri immolati per costringere i sassoni a sottomettersi al macellaio di Sodome Gomorra. Un sacrificio umano di dimensioni ciclopiche. E poi voglio che qualcuno mi contesti il termine di macellaio di Sodome Gomorra. Questi li hanno ammazzati solo per il gusto di ammazzarli. E quel Dio ne è colpevole e responsabile. E ogni pontefice, ogni papa, ogni cristiano è responsabile per il diritto di partecipazione morale di questo omicidio. Per cui ognuno che si dice cristiano è responsabile del massacro di Carlo Magno come massacro di ogni omicidio fatto in funzione della fede. Ogni cattolico, ogni cristiano è responsabile della condanna a morte di ogni persona fatta in nome della sua fede. Il suo Dio, il suo profeta, i suoi preti sono responsabili di omicidio per il principio della partecipazione morale. E questo non vorrei più ripeterlo. So benissimo che vi scoccia, ma in questo modo i cristiani hanno costruito la loro fede. La loro non è una fede, è un atto di sottomissione, è un atto di violenza. Come è un atto di violenza l'imposizione del loro Dio, è un atto di violenza il loro Gesù di Nazareth. A Carlo Magno non interessa il sacrificio umano. Questi sono abituali. Carlo Magno li pratica abitualmente dopo ogni battaglia. A Carlo Magno interessa affermare il principio secondo cui il pagano non ha una fede. In quanto non esiste nessuna fede fuori dal cristianesimo. Ciò che fa il pagano è adorazione del demonio, secondo il costume dei pagani o di quei pagani. Questa è l'unica cosa che interessa a Carlo Magno, in quanto egli deve distruggere il futuro per il presente. Bastano le sue spade. Così nessuna struttura filosofica riuscirà a svilupparsi se alla sua origine non avrà l'essere assolutamente necessario creatore del cielo e della terra. Si può cospirare con i pagani contro i cristiani? Chi se non altri pagani? Questo è l'articolo 10. Chi se non qualcuno sviato dal demonio? Dunque, ogni nemico può essere accusato di cospirare con i pagani e condannato a morte. Ogni ostacolo che si frappone, l'assoggettamento deve essere rimosso. Ogni sospetto di non assoluto assoggettamento deve essere rimosso con la massima ferocia, per ottenere un assoggettamento assoluto da parte dei sopravvissuti. Funziona come la selezione delle pecore per ottenere pecore mansuete. Si uccide chiunque percepisce il minimo barlume di libertà. Si giustifica questo massacro con accusi inventate protestuose. Li si impedisce di diffondere quanto percepisce. Continuare quest'operazione per una cinquantina d'anni, visto la lunghezza della vita che i cristiani, attraverso la loro miseria, riservano gli esseri umani. Con la circolazione delle informazioni in quei tempi e la diffusione della cultura scritta, sono più che sufficienti per distruggere la memoria attraverso la quale l'individuo si relaziona col circostante. L'ostilità e la macchinazione non deve esistere nemmeno nel desiderio e nell'intenzione. L'assoggettamento e la sottomissione deve essere totale. Lo schiavo non è tale solo per il lavoro, ma all'interno del suo essere. Questo è il fine dei cristiani. Non esiste più un lievito attraverso il quale espandersi nel circostante. Rimane il circostante della sua azione su individui che per condizioni casuali hanno una particolare sensibilità. Articolo 14. Carlo Magno deve dare ai preti cristiani il potere coercitivo nei confronti dei loro schiavi, così come possono accusare chiunque per arrivare ai loro obiettivi, qualora chi accusano si sottomette e si pente, sottomettendosi al sacerdote consente a questo di usarlo come esempio, umiliandolo a suo piacere. E chi viene umiliato ed usato come esempio è peggio che essere ucciso. A quel punto il prete cattolico si trova nelle mani uno strumento di pressione per l'intera comunità che controlla. Il prete è un poliziotto di Carlo Magno. Carlo Magno è un agente terroristico a disposizione della Chiesa Cattolica per la distruzione della vita e del suo divenire. Così non moltiplicheranno né panni né pesci per i miserabili, ma ruberanno pane e pesci dalle mani dei miserabili per moltiplicarlo sulla tavola dei preti cattolici e dei loro servi. Questi sono i panni e i pesci che Gesù moltiplica attraverso la fede. Ed è a questo che Gesù si riferisce. La storia lo dimostra al di là di ogni sofisma. Articolo 17 Secondo gli insegnamenti di Gesù sulla moltiplicazione di panni e dei pesci, Carlo Magno obbliga chiunque a dare la decima parte di quanto hanno ottenuto i preti cattolici. Se la decima parte data dal nobile serve a garantirsi la gestione degli schiavi ad opera dei preti cristiani attraverso la loro ferocia, cosa viene in tasca al libero e ai liti? Nulla. O meglio, la conservazione del loro stato di schiavitù. Quando gli ebrei ricevono la manna dal loro Dio nel deserto, possono aver ragione a ringraziarlo. Apparentemente essi non hanno fatto nulla per averla. La donazione è avvenuta in quanto erano loro e in quanto il loro Dio aveva deciso di relazionarsi con loro. Dunque Dio ha dato loro qualche cosa. Dunque essi rendono grazie al Dio. E con questa grazia rendono la dipendenza al Dio. Infatti si sottometteranno i dieci comandamenti. Ma nel caso del lavoro Dio non ha dato nulla a chi lavora, ma è chi lavora che ha prodotto la sua ricchezza. E per quanto riguarda il nobile, questi ha estorto la ricchezza a chi lavora. Pertanto non deve rendere grazie a Dio, ma pagare bene gli armati che gli hanno consentito di appropriarsi della ricchezza. È solo un gioco sofistico, di cui i cristiani si sono serviti e si servono tuttora per umiliare e immiserire chi faticosamente avanza lungo la via della conoscenza e della consapevolezza. Non te lo sei mica conquistato quel tuo lavoro, la tua fettica, la tua volontà, il tuo impegno, le tue determinazioni. Te l'ha dato Dio. Ringrazialo o ti ammazzo. Così facendo, essi disarmano il sistema sociale umano, nell'arrancare lungo la strada del suo divenire. Perché se è vero che nonostante il dono di Dio molti esseri umani decidono di usare la loro volontà e le loro determinazioni, è altrettanto vero che si forma una massa di rinunciatari all'uso della volontà e delle determinazioni che preti cristiani usano come massa di manovra rispetto a chi attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni lavora per il benessere del sistema sociale, sviluppando il potere di essere in contraposizione al potere di avere. Carlo Magno, attraverso questa forma di estorsione, vuole arricchire il clero affinché aumenti la propria forza coercitiva nei confronti degli esseri umani sottomettendoli. Carlo Magno vuole distruggere il paganesimo in quanto il paganesimo è libertà e il cristianesimo gli garantisce coercizione e sottomissione. Articolo 18 L'assoggettamento richiede manifestazione dell'assoggettamento. L'assoggettamento deve essere celebrato. L'assoggettamento deve essere il momento di esaltazione e gioia per l'assoggettamento stesso. L'assoggettamento fisico attraverso la schiavitù del lavoro deve avere il momento di pausa nell'assoggettamento religioso. Certo, era meglio andare in chiesa a pregare piuttosto che continuare a piegare la schiena per lavorare nel campo a beneficio del padrone. Ma le due cose non erano diverse. Le due cose si completavano acquendo la dipendenza degli esseri umani. Un tempo pagani e liberi dalla schiavitù dei nuovi padroni. Padroni il cui scopera la sottomissione morale degli esseri umani, privandoli del loro cammino di libertà. Celebrare le feste con i modi voluti dalla chiesa e imposti dalle armi cristiane. Non sono feste sentite dalla gente. Sono feste imposte da armati. Queste feste diventano a poco a poco gli unici momenti di riposo e, generazione dopo generazione, vengono interiorizzati dagli esseri umani che non troveranno altra via d'uscita. Recarsi a pregare con la forza era il punto più importante. Supplicare. I pagani dovevano essere costretti a supplicare. A supplicare Dio. A supplicare i loro padroni. Nella preghiera si esprime tutto lo sforzo della chiesa per mettere in ginocchi gli esseri umani liberi davanti a se stessa. Non è che prima dell'avvento dei cristiani ci fosse la libertà per tutti e i cristiani l'hanno bloccata. Fu peggio. I cristiani intervennero su un processo del divenire umano e del paganesimo in generale. Quando si afferma che anche i pagani avevano sacrifici umani, si afferma che il divenire della coscienza attraverso la relazione con l'esistente ha attraversato gli esseri umani che quella relazione hanno iniziato. Pertanto sacrificavano se stessi per favorire la relazione col circostante. A mano a mano che la relazione si approfondiva, i costumi e i rituali della relazione si modificavano. E' giunone sotto forma di essere aquila a strappare di mano la spada a Valeria mentre tenta di suicidarsi per evitare l'epidemia. Il paganesimo è religione di divenire e di adattamento. E' un credo in continua evoluzione ed espansione in funzione del divenire e dell'espansione dell'attenzione dei suoi veggenti. Il cristianesimo è l'assoluto di un dio perverso e assassino, il cui scopo è quello di assoggettare gli esseri umani. Il cristianesimo è arte della distruzione umana e dell'assoggettamento. Quando il cristianesimo interviene militarmente sul paganesimo, blocca il divenire del paganesimo imponendo l'assoggettamento al proprio dio assassino. Impedisce agli esseri umani di coltivare la relazione fra sé e il loro circostante. Impedisce ai riti di svilupparsi e di modificarsi. Impedisce agli esseri umani di sviluppare la propria percezione, interagendo in modo sempre più consapevole col circostante, attraverso la supplica e la preghiera. La relazione fra gli esseri umani e il loro circostante viene troncato. Attraverso la supplica e la preghiera si costringono gli esseri umani, fino al primo giorno della nascita, a rinunciare ad esercitare le proprie determinazioni e la propria volontà. Ma poi, una volta cresciuti, dimenticano l'esistenza della possibilità di usare le proprie determinazioni e la propria volontà e per essi pregare e sottomettersi diventa normale, naturale. Questo è il motivo per cui Carlo Magno impone la partecipazione ai riti e li costringe a pregare. Quando Celso accusa i cristiani di non partecipare ai riti collettivi della città, non li accusa di non voler pregare gli dei pagani, li accusa di voler essere diversi dagli altri cittadini e di pretendere che gli altri cittadini si sottopongano alle loro leggi e ai loro costumi. Le accusa di voler dividere la città per renderne i suoi cittadini schiavi dei cristiani. E non sbaglia, le operazioni portate a termine dai cristiani in Jugoslavia e nei paesi dell'est europeo negli ultimi anni dimostrano come Celso vedesse lontano e quanto piena di miseria fosse la morale di origene. O origene, come si dice. Articolo 19 Si compiace Carlo Magno nel sottometere ad umiliare i bambini. Non condanna a morte la forma di ribellione. Dice, in fondo non è tanto grave. Si premura di imporre delle ammende. Ammende che sono tanto più gravi tanto è bassa la casta sociale. I valori in assoluto sembrano contraddire quanto detto. Ma è più facile che un nobile abbia 120 scudi da buttare che un litro 30. La stessa cosa vale per il matrimonio. Questo è comunque un valore da proteggere in quanto patrimonio del padrone, del re e della chiesa cattolica. Pertanto non c'è condanna a morte. Ma soltanto una multa. Tanto comunque gli sposi saranno assoggettati al volere del re e della chiesa, che sarà ben attenta a coltivare il loro grado di assoggettamento. Sempre un'ammenda se qualcuno voleva coltivare una diversa fede. Ma non era un'ammenda normale. Era un mezzo per costringere l'umiliazione che costruiva delle relazioni quel circostante. Il nemico dei cristiani in Sassonia era Silvano. Silvano era il bosco e la sua numenia. E quel bosco era Fons, scusate, con le ninfe. Questo circostante era sempre in grado di parlare agli esseri umani, di attrarli lungo un percorso di libertà. Specialmente ora, che venivano messi in ginocchio e che dominava l'assoluto disprezzo per le forze della natura e il terrore nei confronti del circostante. Era necessario per Silvano e Fons allacciare delle relazioni con gli esseri umani ogni qualvolta incontrava un essere umano la cui sensibilità era tale per relazionarsi col circostante. Alla stessa stregua è una questione col demonio. I cristiani stavano propagandando la figura del loro demonio con la stessa descrizione di Silvano. Le due figure stavano sovrapponendosi, in quanto i cristiani intendevano distruggere il circostante in onore del loro Dio. Percepire il circostante per i cristiani equivaleva a percepire il demonio. Relazionarsi col circostante per i cristiani equivaleva a relazionarsi col demonio. Certamente c'erano altri esseri, ma erano lontani o troppo difficili da raggiungere. Alcuni esseri come il sole richiedevano un lungo riposo e lunghi momenti di meditazione. Altri richiedevano l'espansione dell'individuo nell'oggettività, l'estensione delle sue ali della percezione, cosa quasi impossibile a chi è sottoposto coercitivamente alla preghiera. Silvano e Fons erano là, legati ai bisogni immediati degli esseri umani. Erano vigili e pronti a cogliere ogni momento di alterazione della percezione. Quando si percepisce il circostante, la prima reazione è l'assoggettamento. Si pensa al circostante come i cristiani pensano il loro Dio. Soltanto approfondendo la relazione si comprende come il circostante sia se stessi e la relazione non è più di assoggettamento, ma diventa una relazione di libertà. I cristiani intendono intervenire immediatamente prima che le ali della percezione dell'individuo si estendano per poter imputargli di aver fatto voto o offerte ai demoni o alle fonti o al bosco o ai suoi alberi. Questo è il senso di questa legge. Non c'è pena di morte, ma umiliazione ottenuta con l'assoggettamento dell'individuo al prete, che si può permettere di umiliarlo e torturarlo a piacere per i propri scopi e i propri fini, quando da parte dell'assoggettato ci sarà la ribellione, allora scatterà la pena di morte. Guardatevi dal lievito dei cristiani. Se volete sapere cosa pensano davvero, guardate le loro mani, non l'aria che esce dalla loro bocca. Articolo 22 La morte è l'elemento finale su cui si combatte la battaglia. I cristiani devono seminare il terrore per la morte, in quanto dopo la morte si profila lo sviluppo del terrore del loro Dio. Gli esseri umani in ginocchio devono temere la morte più di ogni altra cosa, devono essere terrorizzati dal giudizio di Dio. Per far questo i cristiani hanno strappato ogni concezione della morte dei popoli pagani e li hanno costretti ad accettare la favola della risurrezione promessa dal loro Gesù. Solo che la morte è un punto di arrivo del divenire umano, la morte è il fine stesso della vita. Questo è il paganesimo, lo conosceva benissimo, anche se maggior parte delle sue visioni erano portate, visioni portano il corpo luminoso, alla morte del corpo fisico, a diventare uno con la terra. I cristiani devono usare la morte come momento di terrore. Un cristiano alla morte del corpo fisico non ha più nulla. Le preghiere, la devozione a qualcosa, la sottomissione, la rinuncia all'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni, l'attività attraverso la quale costringere qualcun altro a soddisfare i propri bisogni, costringere i cristiani lo chiamano potere. Seminare terrore i cristiani lo chiamano potere, ma è solo potere da avere, espresso attraverso il possesso di individui e la negazione della loro libertà. Portano ad esaurire la carica di energia vitale con la quale si sono affacciati al mondo, anziché arricchirla l'hanno distrutta affacciandosi alla morte del corpo fisico con il nulla. Essi muoiono quando muore il loro corpo fisico. Essi hanno terrore della morte, in quanto la morte annienta ogni loro speranza. Questo terrore essi lo vogliono seminare fra tutti gli esseri umani. Essi devono togliere la possibilità di ogni essere umano di diventare eterno. Devono strappare ogni relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Con il loro cimiteri i cristiani dicono, ecco, ora sei qui, il tuo corpo è qui, è vero. Il corpo fisico può essere là a marcire, ma solo i cristiani sono lì a marcire. Essi non avevano null'altro al lato della morte del corpo fisico. Il corpo luminoso dei pagani o di chi nel corso della propria esistenza sviluppò la propria volontà e le proprie determinazioni sta da altre parti per continuare il proprio cammino attraverso i mutamenti per diventare eterno. I cristiani si aggrappano alla promessa truffaldina del loro uomo Dio. Prega, sottometti, ti umilia, ti striscia, costringi a pregare, sottometti, sottometti, costringigli a strisciare e a supplicare e per te ci sarà la risurrezione, risurrezione del corpo fisico, giocare quanti più esseri umani possibili per poter illudersi di accedere a quella promessa. Anche gli indovini e i dicitori di morte, Anche gli indovini e i dicitori di sorte vengono consegnati per la tortura, che sia fisica o ricatto morale o richiesta di assoggettamento, non ha alcuna importanza, sempre tortura è, alla Chiesa e ai preti. Chi sono gli indovini e i dicitori di sorte? Sono esseri umani che si sono integrati col circostante o sono imbroglioni? Per la Chiesa non è importante che siano l'uno o l'altro, in entrambi i casi rappresentano un pericolo. Se fossero dei grandi stregoni che sono riusciti a diventare esseri doppi, non li avrebbero mai trovati, ma l'esistente all'interno della ragione non viene modificato dagli stregoni, ma la chi, avendo alterato la propria percezione, ha bisogno di un'oggettività confacente per continuare a sviluppare se stesso. Se l'indovino ha espanso se stesso nell'oggettività, percependola e diventandone parte, è pericoloso in quanto trasferisce i bisogni dell'oggettività all'interno del quotidiano della ragione. O si sottomette o deve essere ucciso. Se è un imbroglione è pericoloso. È vero che non si può procedere contro di lui attraverso le leggi perché costui imbroglia la gente, carpendone la fede. Non si comprende perché non si proceda contro i cristiani, in quanto sottomettono un inesistente paradiso per ottenere assoggettamento. Ma la sua presenza rappresenta un atto di ribellione all'assoggettamento cristiano. L'imbroglione è quello che sfugge al controllo e all'assoggettamento e, da quella ribellione, potrebbe davvero riuscire ad entrare in relazione col circostante. La ribellione rappresenta comunque una rivendicazione davanti all'esistente del proprio potere di essere. Se il circostante risponde, il cammino può essere intrapreso. È necessario consegnargli al prete per sottometterli, per usarli ad esempio di tutti coloro che potrebbero desiderare la libertà. Deve essere il prete a distruggere il loro affare, costringendoli a mettersi in ginocchio, costringendoli a pregare, costringendoli a sottomettersi. Devono essere distrutti non come persone, ma come fare e come relazione. Dopo, se dovessero proseguire, il prete usa accuse per la condanna a morte. Articolo 34. In questo capitolo si proibisce la collettività, si proibisce di fondare il proprio divenire, si impone l'obbedienza per l'obbedienza in funzione dell'obbedienza. Tu fai solo se io ti dico di fare e nella misura in cui ti dico di fare. Questo detame fa parte dei fondamenti del cristianesimo. Questo insegnamento è come il Dio dei cristiani si impone ai suoi fedeli. Questo è l'atteggiamento imposto militarmente attraverso il quale ottenere la possibilità di imporre le proprie decisioni, avendo a disposizione degli esseri umani prostrati. Il controllo dei conti viene demandato ai sacerdoti. I sacerdoti, il cui fine è di sottomettere gli esseri umani più deboli al loro Dio, devono controllare i conti. I conti hanno interesse all'assoggettamento, sì, ma ad espandere il loro assoggettamento. I preti hanno interesse a sviluppare l'assoggettamento per l'assoggettamento. I conti potrebbero allearsi con i propri schiavi per allargare i propri domini, ma i preti non hanno interesse a conquistare territorio. I preti hanno interesse a di intensificare l'assoggettamento rispetto agli esseri umani che dominano. I conti agiscono sugli esseri umani all'interno di un territorio. La profondità dell'azione sugli esseri umani è gestita dai preti. Il territorio è sotto il controllo dei conti. Gli esseri umani sono controllati dai preti. Dunque, il controllo dei conti rispetto alla relazione con gli esseri umani nel loro territorio viene demandato ai preti. Bello come sofismo, eh? I preti, attraverso questo, hanno il controllo sui conti. Il controllo di Carlo Magno viene fatto dal Papa, incoronando il difensore della fede. Poco più di 200 anni dopo questo, nel 1075, la Chiesa Cattolica proclamerà che al Papa è permesso rimuovere gli imperatori. Carlo Magno ci ha dato un grande esempio sul reale significato del cristianesimo. Di quanti milioni di morti sono lastricati i cammini della libertà? Di quanta infamia si sono macchiati i cristiani? Quanti lager hanno costruito prima di aiutare il nazismo ad eseguire i suoi stermini? Guardatevi dal lievito dei farisei, dice Gesù. Altrimenti come possiamo, dice sempre Gesù, macellare l'umanità impedendole il cammino lungo la via dell'eternità? Questo è per quanto riguarda il capitolato sassone in funzione del lievito dei farisei. Tutto quello che è stato il racconto biblico sul lievito dei farisei ha questo senso. Il mondo ormai sta per morire per i cristiani. Gesù sta predicando che lui sta per venire dalle nubi alla destra del Padre che tutti vedranno la sua potenza e avverrà in quella generazione. Gesù sta mentendo, o meglio, questi Vangeli stanno mentendo. E stanno mentendo perché? Perché devono seminare il terrore. Bene, seminare il terrore non è solo l'arte di Gesù e della sua predicazione all'interno dei Vangeli ufficiali. È l'arte del comportamento di tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa si è comportata e si sta comportando in questo modo. Vojtila che organizza la mafia in Polonia affinché le donne non possino abortire. Non c'è nessuna differenza fra l'azione di Vojtila e l'azione di Carlo Magno che è estremi di prigioniere. Non c'è nessuna differenza fra l'azione di Vojtila, l'azione di Carlo Magno e l'azione del nazismo che stermina gli ebrei, i comunisti, gli zingali, gli omosessuali. Cioè, non esiste differenza fra queste azioni. Il senso è sempre uno. Il principio filosofico che porta a questo, che porta a commettere queste azioni, è sempre lo stesso. Cioè, è sempre il desiderio di assoggettare le persone, di costringere le persone a fare quello che si vuole. Siccome il cristianesimo non è una fede, non è un insieme di principi, non è una questione di onestà, non esiste queste cose nel cristianesimo. Queste cose fanno parte soltanto della propaganda che viene venduta alle persone indifese. Cioè, in pratica, si va dalla persona più debole e il cristiano dice alla persona più debole tu devi essere onesto, tu devi essere corretto, tu devi avere questi valori. Bene, è un atto di assoluta vigliaccheria che fa il cristiano. Perché? Perché se effettivamente lui credesse davvero in questi valori, andrebbe a prendere per il collo il suo capo, il suo pastore, il suo prete, Voitila, le sue organizzazioni di merda, e gli prenderebbe per il collo dicendo che tu devi essere onesto. E invece cosa fa il cristiano? Va dall'individuo povero, dall'individuo indifeso, a predicare dei valori. Questa è la porcheria del cristianesimo. Per questo un cristiano non può misurarsi con me. Perché? Perché è sporco sia nel principio, sia nella definizione, sia nel suo modo di essere, sia nel suo modo di porsi. Perché, per esempio, il cristiano viene a dire, per te, un contraddittorio con te. Faccia il contraddittorio con il suo. Cioè, vada nelle sue chiese, nei suoi preti che struppano i bambini, dentro gli oratori, e dice, tu non devi stuprare il bambino. No, dice il vescovo. Cazzo, il nones, mi sembra che abbia detto, noi non paghiamo più per gli stupri che fanno i preti in confronto dei bambini che gli vengono lasciati. E il vescovo, al quale gli si chiede la documentazione sul prete che è inquisito, dice, no cavolo, non ti do la documentazione. Cioè, non dice, voglio giustizia. Non dice, cazzo, se questo prete ha fatto questa cosa, deve essere perseguito a norma di legge. Non dice questo. Perché? Perché c'è il diritto all'assoggettamento. Perché esiste il diritto morale da parte del vescovo di stuprare i bambini. Chiaro che non li vengono a dire. È ovvio che non ti dirà che esiste questo principio. Non lo viene a dire. Gli dirà il più debole, tu devi comportarti bene, tu devi essere onesto. Però, quando si raccontano fra di loro, quando si raccontano nei principi reali, questo è il principio vero che viene fuori. Altrimenti il vescovo, quando l'autorità giudiziale dice, dammi dati su quel prete che sembra che abbia fatto questa cosa, subito avrebbe dovuto dargli questi dati. Come dice, non paghiamo più per le malefatte dei preti sui ragazzi che gli sono affidati. Ma che caso il discorso è? Deve andare a pigliarsi invece il prete che ha fatto questo, deve andare a pigliarsi il vescovo che ha fatto questo, deve andare a pigliarsi tutte le porcherie che hanno fatto questo, e deve dire a tutta questa gente qua, voi queste cose non le dovete fare nel modo più assoluto e categorico. Mentre invece cosa fa? Fa un atto di vigliaccheria. Continua a parlare di onestà, di correttezza, nei confronti delle persone più deboli, nei confronti delle persone perseguibili. Questo non è accettabile, ma nel modo più assoluto e categorico. Questo è un atto di assoluta disonestà, è un atto di assoluta vigliaccheria. È un atto di assoluta vigliaccheria all'interno della quale i preti vanno a puntare. Per cui il cristiano ha poco di venire da me. Il cristiano deve andare da quelli che fanno queste cose in nome del suo Dio, vanno da Grillo che spaccia le lacrime della Madonna come vere, e lo pigliano a schiaffi, cioè anziché Grillo che piglia a schiaffi i preti che mettono in dubbio queste cose, deve andare a dirgli, Cocco, ma che cavolo stai dicendo? Ma siccome il cristiano fa comodo la vendita di questi oggetti, fa comodo questo tipo di cose, il cristiano non farà mai questo. Il cristiano andrà a fare della feroce assassina, farà del terrorismo contro chi scambia le coppie. Perché questo? Perché richiedono una libertà. La libertà per il cristiano è una cosa inconcepibile. Cioè il cristiano è talmente assoggettato al suo Dio che deve per forza assoggettare le persone al suo Dio. Chiaramente voi potete dirmi benissimo, tu stai dicendo delle cazzate. Cioè voi tranquillamente potete dire non è vero quello che dico io. Voi tranquillamente potete dire non è vero perché il cristiano è una persona onesta. Voi tranquillamente potete dire che quello che dico io è esagerato, è eccessivo. Ma amici miei, ricordatevi, ci sono sempre 1600 anni di storia. E quando io leggo sul giornale, e leggo ieri, non una vita fa, non 50 anni fa, leggo ieri che il tizio dice che le streie erano donne che ammagliavano gli uomini per fare le loro cose, quello non solo fa un falso, ma sta effettivamente dicendo delle puttanate per seminare terrore. Vabbè, ma è l'estremista, è questo? Sì, ma il raduno di un milione di cattolici che vogliono bastonare i figli, anche quello è estremismo. Ma intanto esiste. Cioè esiste nel cattolicesimo tutti questi principi che danno il via a queste manifestazioni. Pertanto domani, in qualsiasi momento, voi vi potete trovare i campi di sterminio aperti. Il problema reale, il problema reale, se vogliamo, è questo. La Chiesa Cattolica non si deve permettere il lusso di riabilitare Galileo. Lei non si deve permettere neanche di accennare a questo. Perché nessun, lei non si può permettere di dire Galileo lo riabilito o riabilito tizio. Perché? Perché questi tizi, tutti quelli che lei ha perseguitato, sono riabilitati dalla vita e dalla storia. Lei, al massimo, per correttezza, dovrebbe espellere, dire, che quelle condanne furono fatte da dei porci, dei vigliacchi, degli assassini. Però se la Chiesa Cattolica facesse questo, dovrebbe risalire l'intera sua gerarchia e dovrebbe dire sì, ma i dieci cardinali che hanno condannato Galileo, chi è che li ha mandati? Li ha mandati il Papa. Allora anche il Papa è un porco. Ma allora, il dogma su cui la Chiesa non ha mai sbagliato o ne si consacra di scrittura non sbagliere mai, dove va? Va a farsi fottere. Ma allora, se anche il Papa ha sbagliato e questo principio va a farsi fottere, anche la parola del Dio va a farsi fottere. Ma se la parola del Dio va a farsi fottere, che valore ha la parola del Gesù di Nazareth? Capito? Allora, si continuano a fare stragi per coprire le stragi, che coprono le stragi e che coprono ancora le stragi. E il fine di tutto questo è la distruzione del divenire umano. E io sono sempre qui in attesa che arrivi il gruppo di ragazzi che fanno musica. Comunque continuerò ancora per qualche minuto, anche se mi stanno aspettando fuori. Continuiamo ancora a dire, intanto speriamo che arrivino presto, perché ormai sono le 8 e 5 minuti e andrò avanti ancora un pochino. Dopodiché metterò su musica e chiuderò chiave se non arriva nessuno. però di solito arrivano sempre a quest'ora. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Senti, sono Enzo. Dimi. Ti volevo dirti, posso parlare con te in privato? Sarebbe meglio se mi chiamassi a casa. Eh, mi dai il numero. Lo trovo se vengo telefonico. Claudio, scusami. Claudio Simeoni di Marghera. Ti ringrazio. Prego, ciao. Ricordate che nei limiti del possibile io non prendo telefonate in privato. l'ho fatto sì qualche volta ma molto raramente. D'altronde a me mi trovate tranquillamente a casa. Insomma, sono un buon pantofolaio. Difficilmente vado in giro. Anche se stasera arriverò a casa un po' più tardi del solito. E niente, cioè mi trovate per cui è inutile che mi telefonate qui per le per telefonate private. E continuando tutto questo discorso che stiamo facendo, no? il problema è un problema religioso, non è un problema questo dal mio punto di vista chiaramente e dopo altri vi diranno le cose dal loro punto di vista. Perché è un problema religioso? Perché è un problema di ciò che sente la persona e ciò che la persona espande da dentro di sé. Cioè, il problema non è il fatto che la persona, che i cristiani sono cattivi perché, per vari motivi, i cristiani sono così perché quella è la loro dottrina e siccome loro vivono soltanto per quella dottrina in funzione di quella dottrina necessariamente i cristiani devono essere così. Allora, il problema non sta nel comportamento del cristiano. Il comportamento del singolo cristiano può essere indicato come amorale, può essere indicato come cattivo, ma il problema reale è un problema religioso, è un problema di dottrina perché se il Dio dei cristiani avesse detto io sono buono e avesse dato delle azioni chiaramente noi qui staremo a sofisticare in maniera diversa, cioè in maniera diversa ci rapporteremo. Mentre invece non è che il Dio dei cristiani sia buono, anche dal punto di vista della bontà come comunemente intesa il Dio dei cristiani è solo un atto di terrore, ma non poteva essere diversamente. Perché non poteva essere diversamente? perché è necessario impossessarsi degli individui, è necessario dare un'immagine di terrore. Per cui la Chiesa Cattolica è nata proprio come setta, come setta che si appartava dal tessuto sociale, terrorizzava i suoi membri, li considerava come eletti del suo Dio e li mandava a distruggere il tessuto sociale della nazione per riuscire ad impossessarsi. Per cui questo è il cristianesimo. non esiste una forma diversa da questo. Per cui tutto il resto, l'immagine del Dio buono, sono pure semplice propaganda affinché le persone siano disarmate davanti a quelle che sono le contraddizioni della vita. Abbiamo già detto nella formazione del crogiolo del male che il principio etico per esempio dell'onestà è un principio etico che nessuno negherebbe, tutti sostengono che l'onestà è una cosa giusta è una cosa buona va insegnata va detta anche il più grande truffatore anche il ladro anche quello che non so ha comunque questo principio da diffondere perché? Perché può essere disonesto o in mala fede soltanto se gli altri sono onesti se soltanto se il principio di onestà è un principio acquisito allora se il principio di onestà è un principio acquisito la disonestà è la regola non è la regola l'onestà è la disonestà la regola cioè in pratica viene propagandato un principio per attuare esattamente il contrario di quel principio per cui io vi posso dimostrare come l'intero sistema sociale in cui noi viviamo giochi su questa dualità giochi da una parte sulla propaganda che si fa il più debole e sull'altra parte come gioco di appropriazione di truffa del più debole per cui esistono tutti questi micro equilibri tutte queste piccole variazioni che ci portano proprio a distruggere il divenire dell'essere umano io qui comincio a avere un po' di problemi perché non sta arrivando nessuno e allora vediamo un attimo se andiamo avanti un pochino io la trasmissione in questo momento l'avrei finita io vi sto leggendo dal Gesù di Nazareth l'infamia umana vi sto leggendo la quarta parte esattamente la relazione fra Gesù e i farisei che cos'è questa relazione dal mio punto di vista ritengo che la relazione fra Gesù e i farisei espressa nei quattro vangeli ufficiali dia alcune delle direttive fondamentali con le quali la chiesa cristiana e cattolica in generale si rapporteranno col mondo per cui queste direttive sono importanti per riuscire a capire le relazioni fra la chiesa cristiana cattolica e il mondo e le indicazioni nascono proprio dal Gesù dal rapporto fra Gesù di Nazareth e i farisei ricordo ancora chi erano i farisei i farisei erano i puri cioè erano quelli che con l'arrivo della della filosofia greca praticamente qua Alessandro Magno nel 300 circa 330 mi sembra avanti Cristo comincia a a espandersi il pensiero religioso comincia a diversificarsi socialmente scusate e i farisei decidono di mantenere puro il loro pensiero cioè praticamente cercano di mantenere la purezza del loro credo e della loro fede per cui sono considerati i pi cioè sono considerati quelli che seguono la loro fede in tutta in tutta armonia tant'è che troviamo nei due Vangeli primi cioè Marco e Matteo troviamo che i farisei addirittura invitano a pranzo Gesù cioè i farisei sono come la gente sono gente che vive in mezzo alla gente e non sono assolutamente diversa dagli altri mentre invece nell'ultimo Vangelo in Giovanni i farisei vengono affiancati ai gran sacerdoti cioè vengono fatti passare come una casta particolare come una casta di potere cioè praticamente viene stravolto quello che è il ruolo in effetti dei farisei ma ricordiamo che Giovanni scrive il suo Vangelo ben dopo il 70 scrive il suo Vangelo dopo il 100 dopo Cristo c'è praticamente 110 120 poi ognuno vede le sue date vede le sue cose vede quello che gli pare comunque lui ignora assolutamente quello che è la struttura la struttura sociale ai tempi del Gesù diverso invece è il ruolo di Marco e Matteo che conoscono queste due funzioni bene purtroppo nella storia nella relazione fra Gesù e il mondo circostante abbiamo due sole variabili abbiamo quella dei farisei e quella dei sadducei non esistono cose diverse vi ricordo che questa è la trasmissione magia stragoneria e paganesimo e che lo scopo di questa trasmissione è quella di espandere il pensiero pagano e il pensiero su cui si fonda la stragoneria lo scopo è quello di costruire i principi di libertà cioè la libertà come modo di essere del singolo individuo libertà del fare libertà di costruire se stessi libertà di rimuovere gli ostacoli e di sottrarsi al condizionamento educazionale dopodiché il nostro pensiero mi sembra abbastanza chiaro la prossima volta nella trasmissione magia stragoneria paganesimo attueremo la quarta parte del crogiolo del male cominceremo a parlare dei principi che formano il crogiolo del male il primo principio nel crogiolo dello stragone suonerebbe come sospensione del giudizio nel crogiolo del male useremo sempre sospensione del giudizio però è la costrizione nella formazione del giudizio bene io qui ho finito e la costrizione è la costrizione Grazie a tutti